Bella a tutti i fornite arts, benvenuti sul leon tube, eccoci in questo video per andare a fare l'incarico infliggi danni agli avversari mentre sei su un veicolo o in sella veniamo qui a mega city, aspetta ho visto una bomba prendiamo un veicolo e andiamo in giro per la città possiamo ovviamente trovare avversari i quali allora possiamo ovviamente andare anche dal boss e i suoi scagnozzi e dobbiamo infliggergli danno ah intanto qui c'è un bel distributore ok allora andiamo a cercare non sono ancora usciti non è ancora uscito il boss dovrebbe uscire tra un po' eccolo è uscito e quindi ora lo andiamo a cercare andare dall'altra parte e vi faccio vedere come fare in modo veloce i punti i duecento punti chi è che ci sta sparando allora eccolo non ci credo l'altra volta eccolo qua guardate pronti via ecco qua siamo già a centosettantanove cambiamo auto eravamo a cinquanta ma abbiamo fatto subito cento punti quindi basta investirli questo va fatto in più partite eccoli qua allora tra l'altro in questa partita ah si ora ce l'hanno anche con noi questo è il metodo più veloce che c'è ok quindi andiamo a cercare ancora l'abbiamo fatta e quindi poi se avete bisogno andate a cercare ancora un altro veicolo e avete visto quindi come farla in modo davvero veloce 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 se questo video vi è piaciuto vi è stato utile mi raccomando un bel mi piace condividetelo con i vostri amici e nei vostri social non dimenticate non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi invidiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti